non mi fermo mai finito ti voglio bene Pinocchio non ti scordare ti voglio bene Pinocchio questa è per te allora direttamente dalla Cameruccia Magica prima di iniziare questa diretta mostruosa volevo dire una cosa molto importante quest'oggi è intervenuto un ragazzetto di colore si può dire no di colore il brasiliano non è razzista anche perché è amico di Mauro quindi per essere amico di Mauro non posso essere razzista quindi detto questo state bene così adesso andiamo ad invitare qualche persona vediamo un po' chi è? amore ma com'è sto ruttando ruttando di collo che? come? vedi chi c'è sta? vada c'è fuoco c'è sta mangià fuoco pure c'è sta mangià fuoco direttamente da Ancona mangià fuoco che dici? mangià fuoco il mangià fuoco il mangià fuoco sei tu ma dove sei il socio tuo? allora uno non è il socio mio no dici due in affari è il socio tuo d'affari si è l'affari tuo è amichetto tuo senti una domanda che ti voglio fare mi ha chiamato la redazione di chi l'ha visto quella che va su Rai 3 mercoledì non è a me non me ne frega il cazzo se ne è scappato a Bangkok perché se cagate i mutanti perché Fabio Russo stava scendendo a Roma hai capito? se cagate i mutanti che certe cose ti do il comitato d'accoglienza certe cose prima si fanno e poi si dicono a casa mia eh ci sto dicendo però a casa mia già uno uno si è scappato uno si è scappato ascolta ascolta se io venissi a Roma a Ancona io ti direi invece proprio perché so che tu sei ad Ancona e non scorre buon sangue tra me te ti dico Fabio Russo io sto venendo ad Ancona non lo sai che fa? prima vieni a Roma e poi che fai? su Miami io quando quando verrò a Roma nessuno lo saprà che so a Roma poi lo farò dopo lo sapranno ah allora adesso il brasiliano no 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 fammi finire un attimo di parlare siccome io questa vai vai fai dimmi siccome sta settimana io ci devo venire a Roma e ci devo venire perché io davo la mia parola però siccome qualcuno è scomparso e io giustamente non è che posso venire a Roma quando una persona non c'è no 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 ti preoccupa che trovi qualcuno lo trovi ti preoccupa che ti accoglie ascolta adesso io conto fino a tre ti dedico un pezzo ti dedico un pezzo mio va bene? io ti voglio dedicare un pezzo uno due tre Pinocchio ma dove stai? a mangiar fuoco Pinocchio che cosa fai? Pinocchio la pazzia per cui non è fatto uno buono per cui non è fatto uno buono ricorda perché sei un buffone uno per giù dell'altro l'altro se ne è scappato io voglio dire io voglio dire io voglio dire una cosa al padre di Algero caro caro padre di Algero meglio mettere il correttore e la terra però ti posso dire una cosa al padre di Algero questo glielo voglio sempre in caso sito un attimo glielo voglio dedicare al padre di Algero meglio truccarsi e mettere il correttore che fa la spia e essere infami insegni come tu figlio o dead dead di adesso stiamo in diretta parliamo tra me e te parliamo che a me non mi interessa le parole di altri allora vai a me non mi interessa stai venendo a Roma cosa? stai venendo a Roma quindi allora tu devi capire una cosa che quel altro se ne è scappato quando ha saputo che il zicchie quando ha saputo che il zicchie stava scendendo in Ancona non si è fatto più trovare io adesso non so dove cazzo se se ne è che è scappato è scappato perché i coglioni devi venire giù ce l'ho non ti preoccupare ma non è che è una diciamo avete organizzato questa cosa io non ho sta a sentire quella amico tu non è amico mio ricordatelo io non ho bisogno di utilizzare niente con nessuno hai capito? che non ti preoccupare ti faccio shampoo barba e capello ti faccio ti faccio nuovo nuovo ti faccio io ci faccio ma ti risulta a me non mi risulta mettiamo il caso che sia una trovata pubblicità a me non mi risulta dici te no a me non mi risulta sta cosa assolutamente no è una trovata pubblicitaria questi sono cazzi sui a me non me ne frega un cazzo io so quello che devo fare io so quello che dovrò fare quando comunque sarà il momento non ti preoccupare che io dico sempre venga a Roma venga ma quando io venga a Roma ma che viene a fare io non ho capito che viene a fare veramente te lo sto chiedendo allora Brasi ti voglio far capire una cosa ormai 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 tu devi capire una cosa che devi cominciare a taspezzare giù perché sei anziano ma Brasi sei anziano ormai ti sei becchiato ma a fare il mio padre però oh io sono 35 anni sembra che ce lo vengi non lo so 35 anni pari missione umano sì ma ti sei guardato ma tu veramente ma tu veramente ci sono venuti a mangiare fratelli non puoi arrivare fratelli non puoi arrivare fratelli manco non puoi arrivare fratelli dove non posso arrivare perché chi sei ma aspetta a parte che io non mi devo pagare paragonare a te perché io sono duro Fabio Russo e non mi devo pagare nessuno io sto conto non ti preoccupare ma no di che pelle che c'ho faccia la pandemia però ricordati i botoli ma quelli te lo fai tu te lo fai io non c'ho bisogno di farlo e infatti si vede che c'è la faccia pari naturali ma che c'hai dentro i sacchi quelli te li butto giù subito poi ti faccio andare a fare tutti i top non ti preoccupare ma che pensi ma tu pensi ma tu pensi veramente perché sei grosso pensi di far paura a me a me frate allora ascolta siccome adesso mi stai facendo sudare guarda ascolta ascolta io non è che sono grosso visto che poi tra l'altro stai venendo a casa mia perché Roma Roma è casa mia tu lo sai ma chi cazzo sei che Roma è casa tua ma chi cazzo sei a Roma pensa a nessuno ma sei ma chi sei ma chi sei a Roma Brasile chi sei fammi capire a Roma chi cazzo sei chi sei a Roma fammi capire cosa hai fatto per Roma cosa hai fatto cosa chi sei ha capito a pezzo di merda a chi metti paura a chi poi quando ci vediamo faccia in faccia te magno così te magno hai capito con chi stai a parlare Brasile hai giocato con la tua autostrada che solo quello puoi fare la meretta che c'è la cellula hai capito con chi stai a parlare è rimasta solo quella è la mia umilissima timora e fai il tuo fatto così lo sai come ci ritorni ancora dentro i sacchi della monnessa ritorni a Roma si ma mi sa che mi sa che ti faccio pulire io a te rimarci a piedi di Roma quanto fino poi vediamo poi vediamo Brasile Brasile ma non te vedi che sei ridicolo ma dove fai sei ridicolo sei ridicolo non lo direi un cuore di stagno ha un tiro sei ridicolo allora te quella tutti tu sei ridicoli una nana nana sei un ovo sodo sei un ovo sodo e ti metto nell'insalata tu mi metti nell'insalata ti metto come ketchup ti metto e poi ti digerisco e Fabio Russo mi fai un ovo sodo e tu sei un ovo sodo Brasile sei un ovo sodo sei tutta chiacchia la sera io ti metto a capire io ti metto a capire un ovo sodo ma dove fai ti metto a capire io per cui sono i coglioni non sono ma chi cazzo sei è un scemo quando sei in Brasile puoi mettere paura a quei quattro sceni che conosci te ma a me mi fai un pochino mi fai ricordatelo sempre col risucchio me lo fai a coglione di merda è capito tu ringrazio a Dio ma ringrazio che ti strozzo con la cadena del carcere te strozzo con questa qua tu ringrazio a Dio spera sempre Dio che io canto sempre perché nel momento in cui non canto più mi sa che si viene a Roma e mi fa arrabbiare mi sa che uscendo di più ancora ah si vabbè te tanto sei abituato a cantare quindi non è che cambia tanto sei abituato a cantare ma tu canti nella caserma ti hai fatto la doccia pure con i sbirri mi fai come ci dicono a Roma come ci dicono a Roma ma io sei infame in Brasile tutto lo sanno mi fai io te lo dico ma te lo dico pure quando ci vediamo lo sai perché il mondo è bello perché varia perché i social hanno dato l'opportunità di parlare a degli escrementi umani come te ma escrementi umani ci sarei pieno di vita e rispetto ma che sei i social ascolta come parla a me i social hanno dato l'opportunità ad escrementi umani come te ma escrementi in me ci sarei tu perché incognito da 40 anni può trovare come sei ridotto Pinocchio questi qua a parlare e noi noi siamo questi così per colpa di gente come te che non sa né parlare e né sta stessita io perché voglio fare il buffone la gente allora io voglio fare il buffone perché la gente mi paga lascio parlare tutti certo però ascoltami ho usato caro vai vai guarda non andiamo oltre perché poi dopo quando si esagera si diventano sc cassi per il culo si sc si cassi per il culo capito sì io ho capito quello che mi vuoi dire caro Brasile però devi capire una cosa caro escremento di merda allora Brasile allora ti posso ti posso ti posso ti posso dire una cosa tu hai capito da quale famiglia provengo brutto ma dimmi una cosa allora ma le famiglie in quattro si sono fatti 300 anni si solo la famiglia tua solo la famiglia tua solo la famiglia tua perché mettete in mezzo le famiglie le tramette che vuoi dimostrare stai mettendo storie in mezzo che hai sentito che vi siete inventati va bene però ricordati che quando parli con me non c'è bisogno che mi inviso le famiglie perché le famiglie ci sono tutti però le lascio da parte io ti garantisco ma te che ci sono in questa casa tranquillo o lo so ascolta il brasiliano o lo so che ci sarei detto ti giuro sulla cosa più cara che c'ho qui che sta qui dietro guarda io ti garantisco io ti garantisco che dal vivo faccio un brutto impatto lo so tu si e tu pensi di mettere io ti spacco lo so tu brasilio ti dico una cosa ancora ancora quello che viene faccio un brutto a me non mi fai 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 paura ti apro in due ma chi ha ma chi brasilio io ti smonto proprio e ti rimonto tutto e ti mando al manicomio ti mando ti faccio uscire veramente pazzo posso non hai capito ancora non hai capito ricorda quando non ci posso con le mani ci posso con altre cose vabbè quando venghi io già mi stacca il caccazzo hai capito quando non ci posso con le mani quando venghi io ti ridico una cosa te lo ridico un'altra volta quando venghi io ricordo prima io non mi dico a Roma ma l'amico tuo pezzo di merda infame è scappato perché se cacca e puttante se cacca e ti ha visto le frutte a me e capito altro che mangi a poveri frutti perché se i tuoi infami ti sono da sempre e capito ricordatevelo tutti e due ricordatevelo bene ricordatevelo che stai a parlare con Fabio Russo il zic che non stai a parlare con quei quattro scemi che conoscete voi che si mettere paura desti quattro scemi che siete lì allora ti faccio una domanda se fossi adesso nella mia umilissima cameretta mi daresti un bacio sui piedi io ti darei un bacio a Brasile sui piedi sui piedi a Brasile ma sai cosa ti faccio io ti faccio pulire il cesso io ti faccio pulire il cesso di casa mia e ti metto la testa dentro ti faccio adesso nella mia umilissima dimora mi baceresti i piedi adesso dimmela per il cazzo io Brasile te rinpo de botte ho una bella idea di te adesso ho una scrivania tu staresti sotto la scrivania alle cazzo i piedi e mi diresti prendere quando posso uscire io si alla cuccia e a Siguano dico io ma quanti film ti sei ma dimmi una cosa fammi capire una cosa ma quanti film ti sei visto Brasile ma quanti film ti sei visto si alla cuccia si a cuccia te ci metto io non ti preoccupare tu Brasile sei un uomo senza dignità te lo dico io da come parli da come ti poni sei un uomo senza dignità non c'è una dignità ma perché tu non vieni dalla strada tu vuoi fare credere che vieni dalla strada ma non è così non è così Brasile aspetta fammi finire un attimo da come parli da come parli da come parli ma che cazzo vuoi fare Brasile ma cioè vuoi dimostrare che sei un uomo di strada non sei da manco l'esempio perché sei un coglione ma te lo dico qua ma te lo dico pure quando ci vediamo perché tanto prima o poi c'è per capo non ti pensai non ti pensai che vengo che vengo giù a Roma a Piamma in caffettino hai capito perché so tu stai tra l'altro non ti preoccupare ma sei uno sciocco sciocco lo vuoi dire a quel coglione amico tuo sciocco hai capito ma non sei uno sciocco lo so guarda non fumare che prima che ti ammazzi il fumo ti ammazzo io sciocco ma che ammazzi Brasile che ammazzi ammazzi ma tu sei un amico ma guarda a me a me mi serve per prenderti per il culo dopo ma tu con le parole puoi fantasticare puoi dire tutto quello che tu ma qua non stanno i fatti hai capito hai capito uno c'è scappato ma non è che oh raga raga ve lo dico tra i po' scappa pure in Brasile scappa ve lo dico io l'ho trovato lì a Bangkok perché uno è scappato già Bangkok ma non è andimito ma non è andimito l'altro ma per una settimana io non è scappato non si è fatto più vedere ma non è andimito e Bangkok chi è Bangkok Bangkok ma c'è l'ignoranza cosa cosa hai detto ma lo so chi si va a Bangkok no dico qual'altro se ne sarà andato a Bangkok è scappato perché io stasettimato uscendo a Roma ma non c'è più è sparito non è che scappi pure quanti follower ti ha fatto per Brasile ma io guarda ti dico una cosa i follower io me li sono creati io con la mia immagine col mio essere col mio modo di fare perché io almeno almeno ti metto in faccia e mica so come te vai un cazzo perché a me non mi prego un cazzo devi guadagnare di vedere tondo a me non mi prego un cazzo hai capito hai capito Brasile allora a me sono come Pinto Paolo a quel fantoscio purattino appontate sì dopo dopo dimmi dimmi a quel burattino fantoscio l'ho inventato io a te e a quell'altro fantoscio vi ho inventato io voi siete una mia creatura voi siete una mia creatura nei tuoi sogni nei tuoi sogni nei tuoi sogni nei tuoi sogni sei 40 anni perché non ti dice bravo bravo festa 300 giorni al mese fantoscio vi ho inventato io fantoscio Brasile tu così puoi parlare sai con chi con me non si parla è capito sì sono il vostro padre mediatico tu sei un fantoscio ma il padre di chi ma tu dici sono il padre di quel fantoscio è di me ho voluto uovo soto e scremento e scremento ma tu sei un gruppo come la fama sei forta ma tu sei un scremento umano ma sul te lo dico io te lo dico io allora facciamo una cosa facciamo una cosa facciamo l'incontro allora l'incontro che torna qua al giro ti ricordi facciamo l'incontro vediamo quanto sei un uomo vediamo quanto sei un uomo lo vuoi fare sono il tuo padre di capare lo vuoi fare senza violenza sono il tuo padre triputario pippo franco pippo franco l'ho inventato una pippa mi fa il brasilio pippo franco un po' più caruscio allora quello è pippo franco dopo dopo la ips si pippo franco un po' più caruscio con una soliface c'è labbra porca puttana pare una puttana ma ora non lo devo dire ma mangiare fuoco veramente ci sono che io mangiare fuoco abbata guardate come la succhia mi moglie basta zitto cos'è che hai detto guardate come la succhia mi moglie si si non ti preoccupare il brasilio ragazzi faccio scappare il brasilio poi vi faccio vedere che ti faccio vedere scappare la poltassia vai prendi tutta la vittoria vai 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 cos'è prendi tutta la visibilità che vuoi vai non preoccupare ricordi che il virus è già visibile di suo ricordatelo sempre hai capito il virus è già visibile di suo non ti preoccupare non ti preoccupare non ho bisogno di fare visibilità con te ricordatelo bene sei una mia scurezza una volta una volta ho cagato una volta ho cagato e ho uscito 17-27 poi ho scureggiato e sei scureggiato oh lo so sei una mia scureggiata tu c'è mando rispetto per te stesso sei una mia scorrega sei una mia scureggiata poi vediamo se vengo a casa con le cattive tu mi fai un bocchino a casa mia tu mi fai un bocchino grosso tu sei uno schizzo di merda sei uno schizzo di merda del mio raccoltoso culo piuttosto costoso dico una cosa vabbè ti sei divertito ma vabbè parla costoso perché il mio culo costoso si ma fai schifo ma fai schifo di te fa costoso fai schifo di te fa fai 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 costoso ho fatto una scureggia e asciutto ma sta zitto ma sta zitto ma che te sei un pagliaccio sei sei un pagliaccio ma te veramente sei un pagliaccio stai senti a me pezzo di merda non sbagliare a parlare con me perché ti faccio il culo veramente perché te non mi metti paura hai capito non metti paura a nessuno guarda mentre la faccia pezzente hai capito te lo faccio faccio dopo il divorzio te lo faccio faccio io ti metto nella sede a rotelle ti metto hai capito hai capito io ti metto nella sede a rotelle e ti metto hai capito ti metto nella sede a rotelle ti faccio camminare un po' a strusciando ti faccio camminare pezzente hai capito a te quell'altro non fa me fai hai capito uomo de merda chi ti faccio il culo veramente troppa visibilità ci sapremo di non ti preoccupare ci sapremo di allora detto questo non essere geloso se con gli altri ballo il twist alla prossima puntata dove sarà uscito o no il nostro amico Pinocchio? Stazione Termini? Stazione Timurtina? La stazione di Milano? Chissà dove sarà andato il signor Pinocchio a fare l'emosina la prossima puntata